Sulla panchina dell'Unione va a sedersi il 59enne Roberto Bordin. L'annuncio nel pomeriggio dalla società labardata, domani la presentazione. Il contratto firmato è sino al termine di questa stagione sportiva, con un'opzione per il prolungamento in caso di promozione in Serie B. A Trieste non è un volto nuovo, ha giocato con la Labarda in C2 nella stagione 98-99 e ha già allenato la prima squadra nelle ultime sette giornate della stagione 2015-2016 in Serie D. Da calciatore ha collezionato 300 presenze in Serie A fra Cesena, Atalanta e Napoli. Era un centrograppista dinamico ed utile che si adattava a diversi ruoli. Ritiratosi nel 2005, ha iniziato la carriera d'allenatore a fianco di Andrea Mandorlini, esperienze al Clugi, dove ha vinto il campionato e la Coppa di Romania, e all'Ellas Verona con la doppia promozione dalla C alla A. Poi il blitz da capo allenatore dell'Unione, il trasferimento allo Sheriff Tiraspol, vincendo due volte la Superliga e due volte la Coppa di Moldavia. Esperienze in panchina anche a Baku e con la nazionale Moldava. Con Bordin ci saranno il vice Marco Veronese, il preparatore atletico Andrea Vezzu, il preparatore dei portieri Antonio Macri e il match analyst Mirko Panico.